La storia della città di Fano ha nel suo nome un'origine sacrale, oltre a tanti aspetti, che la legano al mondo dell'alchimia e alla ricerca esoterica. Proprio questi elementi è dedicata alla mostra Epistolarium Hermeticum di Francesco Milesi, che verrà inaugurata mercoledì 12 agosto alle ore 21 e 15 all'ex chiesa San Michele. Esporrò 60 opere grafiche che ho fatto nell'arco di un anno circa e riguardano l'alchimia, perché le opere che spongo sottintendono un rapporto epistolare tra il maestro e l'allievo. Ogni opera è corredata di quattro righe di spiegazione e l'immagine chiaramente è simbolica, perché gli alchimisti adoperavano le simbologie. Si tratta di una mostra itinerante, ma perché parte proprio da Fano? Itinerante perché noi come Associazione del Rito di Orco abbiamo intenzione di portarle in altre città, alcune di queste sono già fissate come periodi e date che è Reggio Calabria, Firenze e Milano, e proseguiremo, perché pensiamo che questo sia un po' un viaggio dell'anima, un percorso in cui chi ha voglia di viaggiare un po' dentro se stesso si ritrova. Si parte da Fano dunque per un viaggio tra esoterici, alchimisti, cabalisti, perché con buona ragione la città della fortuna può rivendicare un ruolo di primo piano nella diffusione della ricerca alchemica con testimonianze e soggetti di grande importanza, ad appoggiare l'iniziativa all'Associazione Culturale Clan Sinclair Italia. Pensare ad alcune famiglie importanti, storiche di Fano, come i Negusanti, che è la Villa del Bali, con un misterioso sotterraneo di tipo rituale, come ce ne sono anche altri qui a Fano, sotto Palazzo Marcolini, che è l'attuale scuola d'arte, dove c'è un splendido ipogeo con degli affreschi che riprendono simboli anche dell'alchimia, il sole, la luna, ed altri tipi di simboli che sono tipici del mondo di una cultura di natura esoterica che era molto presente nel territorio di Fano. Ma anche l'emblema dell'Accademia degli Scomposti, a proseguito, è formato da sette tubuli di cannocchiale protetti dalle ali di un drago e rappresentano il simbolo di un mistero che deve essere ancora svelato. In realtà l'interesse per l'alchimia non è mai venuto meno. Si pensi che Newton, il grande scienziato che si è occupato di fisica, di tante altre questioni, ha scritto molti più libri di alchimia che non di scienza. L'interesse per l'alchimia non è mai cessato. Non c'è niente di meglio che l'opera di Francesco per avvicinarsi a una disciplina che è sicuramente misteriosa, ma ricchissima da un punto di vista artistico e umano.